Ragazzi, evento importantissimo, sabato 18 maggio alle ore 15, io, Tecnoide, Ussa e Alve, in poche parole tutta la Streamhouse, vi aspetteremo da Bplay, il gaming center di Perugia, dove oltre a noi ci saranno un sacco di postazioni da gaming, dove potremo fare foto, video e un mega torneo di Fortnite. E per raggiungerci vi basterà cercare su Google Bplay Perugia, vi aspettiamo in tantissimi così spacchiamo tutto. Non riesco anche a dirlo, ragazzi, sono troppo stanco, sono morto, mamma mia ragazzo, sono morto, il center note mi sta accompagnando per andare in stazione, ragazzi, sono le 8 del mattino, noi avremo dormito tipo 3 ore, e nada, ragazzi, oggi vado sopra, a casa mia, vado a prendere, non vado a prendere niente, non ve lo dico, vi lascio dentro il video così capirete che cosa vado a fare a casa mia, e niente. No, la mia prudenza è veramente distrutti, un sabato solamente, solitamente il sabato ci si riposa, noi no, a lavorare anche sabato, let's go! Io devo lavorare sabato, devo andare su, poi devo trovare un laptop, editare i video, ma per favore, mi stiamo facendo... Vedi, ragazzi, ci picchiamo sul treno, vediamo un po' cosa succede oggi, in questa giornata, veramente, volevo dormire, veramente volevo dormire, io speravo di perdere il treno, sì, io speravo, veramente che quell'orologio non suonava, quelle sveglia non suonava, mi alzavo e dicevo, no, Tec, ma tu guarda, cavolo, abbiamo perso il treno, stavo anche qua anche il sabato, però vabbè, devo trovare la nostra famiglia, andiamo a vedere un po' cosa succede anche nella mia città, niente, ci picchiamo sul treno, ciao! Ok, ragazzi, adesso andiamo a farvi vedere a Mahim del PC che ci avevo, tanto tempo fa, a cui adesso andiamo lì a smontarlo insieme, gli diciamo che dovremmo andare a buttarlo via, quindi andiamo adesso. Mohamed, vieni che ti facciamo vedere una roba. Piano, vai, Mohamed, vai, alza. Ti resti? Ok, vieni, portiamo insieme questo. Vai a prendere la mia borsa. Mia borsa che c'è in Big Mio. Comunque ragazzi, questa è la home, è la home fatta in questo mondo. C'è tutto il bel paesaggio, vi vicino hanno le rose, c'è la montagna e con la neia è ventata e c'è il caldo tremendo qua. E' questo. Bravo, Mohamed, porta, metti qua, metti qua, perché questa roba, Mohamed, adesso sai cosa andiamo a fare? Questa roba qua, adesso la smontiamo, perché devono buttarla via, capito? Perché non funziona più, capito? Bravo, non funziona più, quindi la smonto, la porto via, ok? Ok? E basta, la portiamo via che non serve più a niente. Chi è il tuo youtuber preferito? Eh? Non lo so. Come non lo sai? Dimmi verità. Mohamed, fai lo scherzo? Tu fai scherzo? Dai, Mohamed, chi è il mio youtuber preferito tuo? Con me. Bravissimo. Come si chiama il canale mio? Moni. Bravissimo. Chi è il mio migliore amico con cui faccio video? Ticnoid. Bravi. Ma tu le sai tutte, Mohamed, tu? Sei veramente intelligento, lo sai? Sei molto intelligente, sei tutte. Vabbè, mi aiuti a smontare adesso il pc? Ok? No? Mi aiuti a tenere la telecamera adesso, va bene? Tieni tu la telecamera, vieni. Allora, si tiene così Mohamed, ok? Tieni da qua. Questa roba qua l'ha buttata da sola, Mohamed, hai capito? Non possiamo buttarla con le altre cose. Quindi questa roba qua noi adesso la stacchiamo. Riprendimi. Mi stai riprendendo bene? Si vede la mia faccia? Sì. Sì. Si è rotto. Non funziona più perché si è rotto. E come è successo? Come è successo? Perché giocando tanto anni si è rotto, capito? Quando giochi tanto a un pc tanti anni, come me, perché io sono da tanti anni che gioco questo, si è rotto, capito Mohamed? Qual è il gioco che ti piace? Non giochi più a Roblox? Sì. Anche Roblox giochi adesso? Io gioco ogni giorno a Roblox. Ogni giorno giochi a Roblox? Ma sei forte o no? Sì. Sì. Io sono pro. Sei pro? Pro? Sì. Ma giura? Sì. Ma è forte il mio amico Mohamed. Eh? Tu sei contento? Te la buttiamo via? Eh? Non sei contento, vero? Eh? Mohamed, adesso sai dove andiamo? Adesso Mohamed, noi due, vieni qui, noi due adesso andiamo a McDonald's, ok? E tu puoi comprare quello che vuoi, ok? E giochi. Anche giochi. Tutto. Tu puoi comprare tutto quello che vuoi, io pago, va bene? Un challenge? Non challenge, tu puoi comprare da mangiare, quello che vuoi, d'accordo? E mamma dice no. No, no, io ti dico io, mamma non dice niente, io, va bene? Andiamo. Andiamo. Eh? Mamma mia che faccia che fai, mamma mia. A volte spaventi, lo sai? A volte spaventi. Oh, cosa fai? Fai delle facce strane. E allora, faile vedere? Mamma mia, Mohamed, uhuuu, Mohamed, uhuuu, come on bro. E allora, fai sempre, minimale, top quality bro. Top quality bro. Yes bro, come on, yes bro. Let's do it. Mamma mia, Mohamed, ma stai a giochi a giochi a giochi a Fortnite? Eh? Diventi Fortnite a Fortnite? Eh? Niente, è forte ragazzi, è il top del top. Il minimone è il top del top. Andiamo ragazzi, per noi al coso e poi dopo vi faccio vedere che mangiamo e tutto il resto. A nonno che va in Audi, guardalo là. Pa 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 pa. E non di... Ha! Il nostro padre che va in giro in Audi ragazzi, è assurdo. Quello se ne va in giro con l'Audi tutta pulchitata, messa a posto. Yow, fa così, peace. Dini, Mohamed, hai visto nonno? Si! Nonno, è andato in giro con l'Audi, nonno. Eh, basta. Siamo troppo forti, noi siamo troppo forti. Andiamo. Ha fatto la fila, è solo lui per uscire ragazzi, dall'altra parte ha fatto la fila di tutta la gente. Vabbè, ora andiamo al sento che torciano, vabbè. Mohamed, andiamo. Non bello. Eh? No. Allora, non hai fame? Non hai fame? Il gelato l'hai già mangiato? Vogliamo andare a bere qualcosa? Farò i succhi qua, lo sai, Mohamed? Piccolo. Tua pancia è già piena. Tua pancia è già piena? Ma andiamo a bere un succo? Buono. Anche il succo fa anche pieno pancia. Fa anche il succo pieno pancia? No. Ma non dire così, Mohamed. Eh? Vai, Mohamed, vai. Ce l'hai la davanti? Tu? Sì. Ma non sto. E dai, Mohamed, più forte. Bravo. Ah, vedi? Finito. Andiamo. Andiamo, ma non ha senso. Dai, per bambini questo, Mohamed. Mohamed, questa sarebbe bella, eh? Mmh? Questa è top. Vai, prova a muovere il mouse. Fammi vedere la mano sul mouse. La tua mano è piccola però col mouse. Vuoi un pc, Mohamed? Sì. Lo vuoi tanto? Adesso? Eh, quando lo vuoi? Adesso. Adesso? Mmh. Ma quanti soldi? Questi soldi, hai visto? Tanti soldi, Mohamed. Io non ho tanti soldi, io. Mmh. Guarda qua, questa costa 2.000, Mohamed. Vedi? 1.102. E tu? Io ho uno, due, tre euro. Va bene, Mohamed, facciamo così. Vieni qua, vieni qua. Vieni, Mohamed qua. Vieni. Allora, ti faccio. Sidi. Facciamo così. Se tu, se tu fai il bravo a scuola, ok? Per due settimane, ok? Io ti compro un pc. Ma lui, sei due settimane troppo. Va bene, allora facciamo che aspetti e vedrai che arriva una sorpresa, va bene? Va bene, Mohamed? Sì. E dai un bacio al zio. E allora, andiamo. Lo so, lo so. Andiamo, vieni. Vieni, Mohamed. Vieni. Allora, cosa ti sei deciso? Di sederti al bar e mangiare cosa? Brioche. Lui prende una brioche, io prendo un'acqua naturale, un carenbo. Bravo, Mohamed. Di lì, ciao, ci vediamo dopo. Mohamed, com'è la brioche? È buona? Ti piace? No, voglio. C'è cioccolato, ma non dirlo a mamma che hai mangiato cioccolato, capito? Bravo, Mohamed. È buona, Mohamed? Ma guarda che hai il cioccolato, Mohamed, in bocca. Sì, così, bravo. Va bene, va bene, lo stesso, lo stesso mangio. Ma tu sei ancora bambino, puoi fare quello che vuoi. Bravissimi. Ma, mamma mia, Mohamed, ti sei sporcato tutto lì. Chi è lo zio più bravo? Io, vero? Bravissimi. Io sono lo zio più bravo. Chi è lo zio che ti porta a bere questo, mangiare questo? Io. Hai visto? Bravo. Non vuoi un McDonald's? No, buono, eh? Basta, vero? Bravo, Mohamed, bravo. Tanto, ragazzi, noi mangiamo e poi dopo ci becchiamo a casa. Poi domani devo partire e devo lasciare Mohamed da solo. Eh? Eh sì, domani vado via. E noi ci vediamo poi dopo, ci vediamo tra due settimane. Sì, sì, friday, ragazzi, vuol dire venerdì. Venedì prossimo. Va bene. E niente, ragazzi, l'abbiamo portato un po' in giro a prendere tutte le sue cose, a mangiare cornetto. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì.